L'ultimo incontro, davanti alle telecamere, risale al 2014 su Red Carpe N. U. E. Orchese, dove le due si sono abbracciate e baciate. Allora nessuna delle due poteva prevedere la sfida per la casa bianca, di mamma Hillary e papà Donald Chelsea abbraccia la mamma, dopo il primo dibattito contro Donald Trump con i genitori dopo il dibattito TV Ivanka con papà Donald e il resto della famiglia durante il medesimo dibattito. Chelsea e papà Billy Ivanka con la nuova moglie di Donald, Melania Ivanka con mamma Ivana e il matrimonio di Chelsea con Mark Mavinsky le nozze di Ivanka. Con Jared e Kustner Chelsea con i figli a New York Ivanka col marito nel 2013 Chelsea Clinton e Ivanka Trump si sono sempre definite buone amiche. Anche durante la, dura, campagna presidenziale dei loro genitori. Un anno dopo l'insediamento di The Donald, però, qualcosa è cambiato, non parliamo da tempo, Chelsea Clinton e Ivanka Trump avevano promesso le migliori intenzioni. Ma un anno dopo l'inizio della presidenza Trump, molto è, inevitabilmente, cambiato nell'amicizia tra la figlia, prediletta, di Donald e l'unica figlia di Hillary e Bill Clinton. L'ha lasciato intendere l'ex First Daughter, ospite del The Late Show di Stephen Colbert, io e Ivanka non ci sentiamo da un bel po' di Il tempo, ha ammesso, per poi tentare di trovare una motivazione, è chiaro che ha sostenuto decisioni e politiche con cui non sono d'accordo. Io sono sempre stata molto esplicita sull'oppormi al presidente Trump, e alla domanda sul ruolo che Ivanka ricopre alla Casa Bianca, a un ufficio da consigliere, mentre al marito Jared Kuzner, consigliere speciale, gli è stato appena revocato l'accesso alle informazioni top secret dell'intelligence. Chelsea non si è tirata indietro, penso che chiunque lavori per il presidente debba aspettarsi di essere giudicato non solo per le decisioni che prende direttamente, ma per qualsiasi decisione la Casa Bianca porti avanti in un determinato giorno, ha spiegato Clinton. Frequentazioni simili, stessi eventi cui partecipare, medesimi privilegi, fino a poco tempo fa le due ragazze erano molto vicine. 37 anni Chelsea, 35 e Ivanka, hanno entrambe frequentato Università dell'Ivy League, Stanford, Columbia e Oxford per Clinton. Wharton per Trump, per poi occupare un posto di primo piano nella Manhattan che conta. Sono madri di più bambini, due la prima, tre l'altra, hanno sposato uomini di fede ebraica, il marito di Chelsea è il banchiere Mark Mavinsky. L'ultimo incontro documentato dalle telecamere risale al 2014, sul Red Carpe dell'annuale Glamour Magazines Women of the Day Award alla Carnegie Hall di New York. Si sono salutate con un bacio e un abbraccio. All'epoca nessuna delle due poteva immaginare il futuro. E persino durante la spraccampagna elettorale tra la madre di Chelsea e il padre di Ivanka avevano provato a tenere fuori il loro rapporto, Siamo amiche da molto tempo prima di questa elezione e resteremo amiche anche dopo, sosteneva la figlia di Hillary nell'autunno 2016, la figlia di De Donald Riva Diva. Abbiamo un grande Reese l'una per l'altra che non è cambiato, è una ragazza fantastica, e una buona amica. Poi il miliardario neuerchese ha vinto, e un anno della sua presidenza ha lasciato, anche qui il segno. Top Stories from Social Media